Oh, 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 eccoci siamo. Non hai ancora risposto alla mia domanda? Se oggi come oggi avessi la possibilità di scappare con mezzo milione di dollari, l'affereresti? Sì. Se hai intenzione di entrare con me in questo affare, devi essere risposto ad andare fino in fondo. E tu che faresti, Max? Cioè, se avendone l'opportunità scapperei con una busta piena di soldi, è questo che mi chiede? Noi lasciamo che lui e la sua hostess portino qui i soldi e poi ne li facciamo sparire. Sta cercando di metterti contro di me, vero? Mi è piaciuto. È stata una bomba. Vuole collaborare? Davvero? È spaventata? Sì, sembra spaventata. D'accordo, perché no? Hai intenzione di incastrarla? Sì. Amico, guardami negli occhi quando ti parlo. Mi ha fatto proprio saltare i merdi, amico. Allora, dovrei lasciarmi? No, devo sparare. Guardati la K47, il meglio del meglio che ci sia sulla terra. Quando senti il bisogno di fare piazza pulita una volta per tutte, degli scarafaggi che ti circondano, non accettare imitazioni. Comitazioni.